Nuova udienza del processo Coingas, procedimento che vede sul banco degli imputati anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, l'assessore Alberto Merelli ed il presidente di Estra Francesco Macri. Di fronte al collegio, presieduto dal giudice Adagrignani, è stato nuovamente il turno dei testi della procura. L'inchiesta, come ricostruito nel corso della scorsa udienza, era partita dalla segnalazione del collegio dei sindaci revisori su consulenze d'oro che Coingas aveva stipulato con lo studio legale fiorentino Livetti Razon e con il commercialista Marco Cocci, ritenute dalla procura non solo anomale ma decisamente eccessive, chiamati adesso a deporre gli ex amministratori di Coingas che furono in carica prima che venisse nominato l'amministratore unico, ossia Filippo Ceccarelli, Carla Gigli e Rossana Fucini. Ceccarelli, rispondendo alle domande in aula, ha raccontato della sua volontà di ridurre da 120.000 a 60.000 il contratto di service con Estra che curava tutta la parte amministrativa, la contabilità, il protocollo e l'assistenza legale per conto della socia Coingas. Per quanto riguarda invece la nomina di Macri, sempre Ceccarelli, ha dichiarato di aver espresso perplessità sulla fattibilità giuridica del conferimento. Subito dopo è stata sentita Carla Gigli, componente anche lei del CDA di Coingas, da agosto 2016 a settembre 2017, quando presidente era Sergio Staderini, periodo nel quale a Olivetti Razon fu affidato un incarico specifico di consulenza legale per studiare i patti parasociali tra i soci, mentre il CDA rifiutò la proposta di una consulenza legale continuata per tre anni per un importo tra i 20.000 e i 24.000 euro all'anno. Anche secondo l'altra testimone, Rossana Fucini, non c'era bisogno di quel tipo di consulenza. Si tornerà in aula il prossimo 19 aprile, quando saranno ascoltati i sindaci dei comuni soci di Coingas. Grazie. Grazie.